Alessia Peraro, direttivo Federalberghi, sostenete da sempre questo genere di iniziative perché sono quelle che esaltano la bellezza dell'isola? Assolutamente sì, diciamo che la Proloco con anche gli ultimi aiuti, un po' la ristrutturazione organizzativa è da sempre una realtà che comunque riesce anche a richiamare un po' le nostre tradizioni e quindi cercare di coinvolgere quelli che sono i clienti di questo periodo così come anche a settembre con andar per cantine e riportare un po' a quello che è la tradizione e la storia della nostra isola. C'è un crescente interesse da parte dei turisti per i sentieri, la sentieristica, la natura, l'enogastronomia? Sì perché diciamo che ora un po' tutti, anche noi personalmente, andiamo più alla ricerca delle esperienze autentiche e anche e soprattutto l'esperienza che si può vivere in un luogo proprio a contatto con quelle che sono le persone del posto e riscoprire le tradizioni culturali.